Se noi vogliamo sapere che cosa è utile e che cosa è inutile nelle nostre società, basta guardare i bilanci dei governi. Laddove si taglia significa che è inutile. E dove si taglia? La scuola, l'università, i musei, la ricerca scientifica di base, la musica, i teatri, i cinema e quindi significa che tutto ciò che riguarda la cultura è inutile. Ma invece sono proprio questi saperi ingiustamente ritenuti inutili che rendono più umana l'umanità e quindi sono più utili dei soldi e del profetto.